Fulgorazione per una scarica elettrica a media tensione da 15.000 volt, questo è il primo risultato dell'autopsia svolta dall'equip di medicina legale dell'Università di Siena sul corpo di Marco Del Cimuto, l'operaio 33enne, vittima del drammatico incidente sul lavoro che si è consumato lo scorso martedì alle Vertighe di Monte San Savino. Per il risponso ufficiale dell'esamo toptico si dovranno attendere ancora 60 giorni, ma la certezza al momento è che l'operaio è deceduto a seguito della folgorazione per una violenta scarica elettrica. Altri elementi utili potrà fornirle indubbiamente l'informativa dell'Asla, attesa giorni, che ricostruirà nel dettaglio la dinamica dell'incidente. La procura di Arezzo intanto ha aperto un fascicolo per omicidio colposo, già partite e notificati 5 avvisi di garanzia riguardano i tre amministratori, il responsabile e il preposto alla sicurezza della ditta Asla di Lamma De Peligni, l'azienda per la quale lavorava il 33enne che aveva vinto un appalto per conto di Enel per il rinnovamento dei pali della luce. Gli accertamenti dei carabinieri di Monte San Savino e quelli della magistratura dovranno chiarire se si è trattato di fatalità e imprudenza o se invece ci siano delle responsabilità come omissioni e negligenze delle figure preposte alla sicurezza nei luoghi di lavoro. Al vaglio degli inquirenti ci sono infatti le manovre eseguite e le dotazioni in uso per gli interventi della sostituzione dei pali.